Eccoci qua giunti alla finale dei meno 68 kg, classe B, Marcos da Silva e maglietta rossa contro Francisco Guzmão. In questo caso vede che la finale di questo torneo internessi alla submission wrestling del 25 aprile 2007 a Modena, vede due brasiliani che comunque in questa lotta la submission wrestling per adesso e tecnicamente sono superiori a tutti a livello europeo. Il mio modo di vedere ancora per poco in quanto anche le nostre scuole, sia la scuola italiana, la scuola francese, la scuola tedesca, la scuola escandinave stanno crescendo molto, però sicuramente loro ci hanno insegnato tanto in queste discipline. Fase di studio figlio avversario, mi avviso che questi due avversari non erano da classe B ma erano da classe A per esperienza, essendo ormai parecchi anni che lottano a livello italiano ed internazionale. Però non sempre gli allenatori portano gli atleti nella categoria di compete. Attacco sulla gamba da parte di Da Silva, molto bello, molto bello. Vince il tutto in meno di un minuto, quindi complimenti, è veramente interessante questo ragazzo. Ha fatto una leva identica a quella che abbiamo visto nella finale della categoria a meno 88 classe A, una leva a tallone che poi si ripercuote sul ginocchio. Una leva molto pericolosa, che peraltro voleva essere abolita addirittura anche fra i professionisti, perché vedete anche l'atleta in questo caso è molto dolorante. Quando la leva va a buon fine effettivamente si è reso che le articolazioni hanno sicuramente la peggio.